Beh, intanto voglio salutare Monica e Giancarlo che purtroppo sarebbe stato meglio averli qui dal vivo insieme a noi, invece sono a distanza e quindi li posso solo salutare così. E poi io non farò conclusioni perché penso che le conclusioni vadano fatte nella riunione di cui tu hai accennato del prossimo febbraio che io mi auguro possa essere fisica e non in rete, quindi augurandomi che la pandemia non abbia un'ulteriore accelerazione e penso che le conclusioni vadano fatte lì. Io ho e raccolgo gli spunti che questa mattina sono stati detti dagli interventi di Jens, di Monica, di Giancarlo, di Angelo per dire che innanzitutto è molto positiva la sintonia che noi registriamo dalle parole delle, tra virgolette, passatemi il termine, controparti, che controparti non sono in questo caso. Nel senso che voglio dire sono pienamente d'accordo su tutto ciò che è stato detto da loro rispetto ai tempi, a come la pandemia abbia cambiato, e lo dicevamo anche ieri, abbia cambiato la modalità di relazioni, la modalità e l'organizzazione del lavoro è che probabilmente è solo l'inizio forse, noi ci troveremo ad affrontare novità sull'organizzazione del lavoro molto, come dire, molto approfondite, molto profonde, che trasformeranno i luoghi di lavoro. E da qui la necessità, io condivido quello che diceva Monica questa mattina, quando dice che la velocità è l'elemento, come dire, prioritario di un nuovo modello di relazioni industriali. Noi dobbiamo essere sul pezzo, passatemi il gergo sindacalese, noi dobbiamo essere sul pezzo da subito, da ieri, non da domani. Abbiamo molte cose da regolamentare, perché il remote working, tutta l'organizzazione, anche ciò che noi eravamo abituati a trattare sugli inquadramenti, sui tempi di lavoro, noi dovremo ricostruire una normativa su tutto questo. Per chi ovviamente lavorerà da casa, ed è un dato di fatto, perché è inutile che noi ci nascondiamo dietro un dito. Noi abbiamo da una parte sicuramente le aziende che si sono rese conto che lavorare da casa non è un ostacolo, lavorare da casa può essere un'opportunità per chi ci lavora, perché evita una mobilità, cioè non sto a ripetere le cose che dicevano chi mi ha preceduto, ma tutti questi elementi che portano a lavorare meglio e ad avere risultati devono però ovviamente trovare alcune regolamentazioni che, gioco forza, noi non abbiamo potuto normare in questo momento, che è un momento non normale, ma è stato un momento ed è ancora un momento straordinario. Per cui gli orari di lavoro, la disconnessione, il controllo a distanza, le cose anche, tra virgolette, che banali non sono, più banali il ticket pasto, cioè tutti quegli istituti contrattuali che noi avevamo in un contratto nazionale sul lavoro negli uffici, che dovremo gioco forza regolamentare per chi invece lavora da un altro ambiente, che sia a casa piuttosto che da altre parti. Io mi fermo allo smart working. Tutti questi elementi sono elementi che sicuramente devono trovare le parti competenti e con una elasticità di pensiero differente a quella che magari molto spesso ci ha visti magari anche contrapposti in alcune fasi di relazioni industriali in un'azienda, piuttosto che sui rinnovi dei tavoli nazionali. Bene, ci sarà una modalità nuova proprio anche delle relazioni industriali, secondo me. E credo che la sfida non è solo, come diceva giustamente Monica, la velocità con il quale noi costruiamo queste nuove regole, ma è anche la capacità di, come dire, trovare con fantasia le soluzioni adeguate per questo cambiamento. Credo che questa sia la sfida insieme alla velocità della relazione che noi dovremo mettere in campo. Per cui avremo tantissimo lavoro, perché a fianco di questo noi avremo, come dire, comunque l'attività delle relazioni che proseguirà rispetto a come il sistema, ovviamente parlo del sistema finanziario, probabilmente si evolverà. Cioè noi abbiamo alle porte un'acquisizione, una fusione di un istituto bancario insieme a un altro che lo porta ai vertici anche del sistema europeo. Sicuramente si aprirà un risico da questo punto di vista nel sistema bancario e probabilmente neanche solo in quello. È chiaro che noi, a fianco alla pandemia, agli effetti della pandemia, noi dovremo continuare a fare trattative e relazioni industriali rispetto al cambiamento che il sistema produrrà in questo periodo. Ecco, io credo che noi, dal punto di vista nostro, siamo pronti. Mi pare che le aziende lo siano altrettanto. Io penso che in una situazione di questo tipo forse non saranno sufficienti le due parti. ma ci sarà la necessità anche di un coinvolgimento terzo a livello nazionale della politica del governo nazionale, a livello europeo, credo che sia necessario coinvolgere le istituzioni europee. E non è un caso, io credo che Angelo sia qui, insomma. Perché giustamente quello che lui ha detto e che poi ha detto Mario rispetto alla costruzione di un documento delle parti da consegnare alle istituzioni europee, io credo che non solo è un atto dovuto, ma è uno stimolo alla politica europea, a come pensa di disegnare l'Europa dopo la pandemia e in questo, come dire, passaggio ulteriore di costruzione, di aggiornamento del sistema finanziario all'interno dell'Europa. Io penso che sia un momento importante, perché si va a cambiare, forse lo diceva, non ricordo chi, si va a cambiare un paradigma e la costruzione di un nuovo paradigma compete a noi, per cui il lavoro che dovremmo fare è veramente importante e anche, come dire, può segnare la storia del futuro, quello che noi faremo oggi. Io mi permetto solo di dire, a chiusura di questo mio piccolo intervento, quindi questo piccolo contributo che ho dato, di dire che nella riunione in plenaria del febbraio del 2021 parteciperà anche la Confederazione della CGL, perché è importante che all'interno di tutto ciò che è stato detto oggi e in quello che diceva Mario alla fine, che questo documento che noi vogliamo costruire non coinvolge direttamente solo le banche, ma dovrà vedere interessare anche altre categorie, è evidente che non può che trovare, attraverso il Dipartimento Internazionale della Confederazione, un intervento, un'analisi e un contributo all'interno dei lavori che noi stiamo facendo. Detto questo, io ringrazio nuovamente chi è intervenuto oggi e chi è intervenuto ieri, vi auguro un buon ritorno ai vostri luoghi e ci vediamo a febbraio. Io spero poterci anche magari abbracciare, non solo darci di gomito, come si dice. Buon rientro e grazie ancora a chi ci vede dalla Spagna o da Milano o da Roma, perché penso che Giancarlo sia comunque a Roma, e grazie di tutto. A presto.